Avrebbe subito un'aggressione l'avvocato Bartolo Cozzoli, commissario straordinario della Casa Divina Providenza di Biceglie. Il grave episodio sarebbe accaduto giorni fa, ma sulla vicenda è stato mantenuto il massimo riservo. Dalle indiscrezioni pare che il grave episodio sarebbe avvenuto nell'ufficio del commissario e che i protagonisti sarebbero alcuni dipendenti di una ditta appaltatrice a cui Cozzoli non avrebbe rinnovato l'incarico e che sia restato vittima dell'aggressione anche un altro dirigente. Questo è ciò che è trapelato dalla cortina di silenzio elevata attorno all'accaduto. I particolari sono tutti da verificare, ma va evidenziata la gravità dell'episodio. Si tratterebbe dell'aggressione a un commissario di nomina governativa che sta svolgendo un delicatissimo ruolo nel salvataggio attraverso la vendita di una delle istituzioni più importanti non solo di Biceglie ma dell'intera Puglia. Se le indiscrezioni circa l'andamento dei fatti dovessero essere confermate sarebbero ravvisabili reati piuttosto seri. Resta la stranezza del silenzio su un fatto così eclatante anche in considerazione della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è svolto l'altro ieri in prefettura. Oltre agli episodi legati alla criminalità preoccupa infatti il generale clima di tensione. Biceglie è poi da settimane sotto i riflettori anche della stampa nazionale per le sue vicende politiche e la dura polemica ha coinvolto anche l'Avvocato Cozzoli. Secondo il Sindaco Spina il clamore suscitato dalla richiesta in massa di iscrizione sua e dei suoi al Partito Democratico aveva tra le motivazioni far passare in sordina la svendita della Casa Divina Providenza all'opera di Cozzoli il cui compenso sarebbe secondo il Sindaco di due milioni di euro. affermazioni smentite dal commissario che avrebbe addito anche vie legali. Fermo restando il rispetto per le indagini che immaginiamo siano in corso per identificare i responsabili ebbene sia fatta la massima chiarezza sull'accaduto. La cosa non è un fatto privato e non può essere trattata come una rissa da bar. È necessario pertanto sapere cos'è successo esattamente, ad opera di chi, il perché e soprattutto se si è verificato una pratica estorsiva, cosa che sarebbe ancora più preoccupante. Siamo certi arriveranno risposte esaustive soprattutto per i cittadini. Qualunque atteggiamento omertoso, anche se per il quieto vivere, sarebbe infatti assolutamente inaccettabile.